Ahaha, mi scippellino No, e voi non avete idea Che mi vedete, mo, russo russo Eh, i rumori, eccetera Non avete proprio idea Perché ho appena finito di registrare un video di 10 minuti Con il microfono spento E quindi non ce la farò mai più Non ce la posso fare, a ripetere, a ricordare tutto quello che ho detto Perché poi lo sapete, io vado a braccio Insigne, il Newcastle, Amazon, la Spagna, Bonucci Ho parlato di qualsiasi cosa e adesso ho dimenticato tutto Cominciamo E' un martedì pazzesco Rumori incredibili Mannazza, miseria, manazza E poi c'erano pure stati dei rumori interessanti, belli Proprio la motocicletta di Max Biaggi che passava Tutta una serie di discorsi logici belli che avevo fatto E chi cazzo, sai, ricordo Sarà duro a riprendere il filo proprio Perché sono stanco La verità è questa Io vi ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto nel frattempo Ma come il video? Dove sta il video? Ma tutto a posto? Ovviamente, vi ringrazio uno per uno Quelli che mi hanno scritto anche su Instagram C'è stata un'unione, una commistione di cose Un po' non ci sono notizie perché Certo, non mancano i rumori Non mancano i rumori Le notizie magari mancano Ma non mancano i rumori Un po' non ci sono notizie vere e proprie Quando il Napoli si ferma Poi te la devi inventare la notizia E io non sono solito inventarmi la notizia Un po' perché avevo molto da fare Due serate nella stessa sera Praticamente Cose pazzesche Non si dorme più Ma va bene Mamma, non ti preoccupare È la vita che ho scelto Sto bene, sto benissimo Poi dormirò Avrò tempo per dormire Quando c'è meno lavoro Ma, se vogliamo La notizia che poi scaturisce Tutta una serie di sensazioni E di contronotizie È quella là del Newcastle Allora, se vogliamo Io vi avevo detto che avrei guardato La partita dell'Italia E l'ho fatto Perché queste due cose Si collegano Il Newcastle con l'Italia E vi spiego Era venuto così bene Prima Il video di prima È pieno di cose Era venuto benissimo Però col microfono Spiego Ma c'ha fatto Quante cose Devo riprendere il filo delle cose Ce la puoi fare Piano Eh, lo so Piano piano Allora, è presto detto L'Italia con la Spagna Secondo me la Spagna Si è presa una bella rivincita Ci ha dato una lezione di calcio Io L'ho guardata Mi sono anche assopito Ad un certo punto Non perché Insomma, la partita fosse noiosa Anzi Loro ci palleggiavano in faccia Era bella anche da vedere Con giocatori giovanissimi Il 2004 Insomma, veramente La Spagna ha le idee chiare Anche per il futuro Mentre noi Soffriamo Insomma La non presenza Di una punta importante Anche quando ci sta Immobile Non è il massimo Però Quando poi devi alternare E non sai nemmeno tu Quale stai scegliendo Maggi Perché ogni 5 minuti È una volta Bernardeschi Fasso 9 È una volta E Chiesa Fasso 9 È una volta E Insigne Fasso 9 Come vedi Poi lo paghi Perché Se metti Insigne Fasso 9 Sì Lui si impegna Tanto Ce la mette tutta Qualche movimento Buono lo fa pure Però poi Il rigore in movimento Che ha avuto a disposizione L'ha sbagliato E lo sappiamo Che Insigne Non è un cecchino E non è uno Volersela prendere Con Insigne Ma fa parte Delle sue caratteristiche Mettilo Sulla fascia Lì Dove pulisce Palloni sporchi E li stoppa bene Alza la testa E c'ha sempre L'idea geniale Hai il tuo Migliore Insigne Se lo metti Prima punta Te lo devi anche Aspettare Che ti sbaglia Un gol Anche fatto Perché non è Nelle sue corde Assolutamente Ma perché Il discorso Insigne Rientra nel discorso Newcastle Ora senza considerare Il fatto che la Spagna Ha approfittato Anche dell'espulsione Di Bonucci Io comunque ripeti Vedi mi sto cercando Di ricordare Tutte le cose Che ho detto Nel video Che non ho registrato Bene Fate riposare A Di Lorenzo Lo dicevo Per tutta la partita Negli amici abbonati Bellini Con cui parlavamo Riposare Di Lorenzo Sì ma sta giocando bene Capite Ma deve riposare Perché comunque Vedete che gli stanno Girando intorno E in qualche modo I pericoli Comunque arrivano da là E molti sono arrivati da là Uno dietro all'altro È grosso Sì ma non viene aiutato È vero Perché Nel computo Delle cose Così chiese È un giocatore pericoloso Però devi pure aiutare Bernardeschi Dove era In giro per il campo Insomma Una serie di problematiche Che si vedevano belle chiare Quelle dell'Italia Non ho avuto tempo Di fare analisi Non perché non la volessi fare E un pochino perché Essendomi addormentato Non voglio fare analisi Se non l'ho vista Completamente 24 ore su 24 Intendo 90 minuti Su 90 Insomma Quando poi Bonucci Si fa espellere Proteste Le proteste Di solito In Italia Te la fanno passare Poi basta Che ti ricordi Invece col Milan Che non te le facevano passare Ma vabbè Le proteste così Dopodiché Il fallo Tu guardi L'avversario E vai così Purtroppo È stato bravo Bonucci Devo dargli Atto Merito Che insomma Ha chiesto scusa Ha detto Sono arrabbiato io Prima con me stesso Perché Ho messo in difficoltà La mia squadra Un po' Come la questione Di Mario Ruiz Per noi Diventa poi complicata Recuperarla Specialmente con una squadra Forte come la Spagna E quindi Mettiamo da parte Questa situazione qua Perché poi Il Newcastle Perché il Newcastle Nel momento in cui Viene rilevato Rivelato Non rivelato Rilevato Dall'uomo più ricco Del mondo Uno degli uomini Più ricchi del mondo Sicuramente Perché Se è vero Come è vero Che è 13 volte Più ricco Del padrone Del padrone Del Manchester City Stat Buona Maron Di nuovo Mi viene da dire Perché ciao Allora immediatamente Uscirà la notizia Visto che hanno Pungolato di nuovo Insigne sul contratto Uscirà Al 100% La notizia Che il Newcastle È interessato a Insigne E che gli offre Un contratto Da 10 Barra 15 Milioni E Insigne Starebbe tentennando Eh Ve la dico Prima La notizia Prima che esca così Noi dobbiamo fare così Perché quando non ci sono Le notizie Le notizie Se le inventano E adesso Noi facciamo La contro informazione Contro notizia Dovete solamente Dovete solamente dirmi voi Quando uscirà Chi è stato il primo A farlo uscire Semplicemente questo È il nostro dubbio Ma non c'è dubbio Che la notizia uscirà Il Newcastle Starebbe pensando Parrebbe E Insigne Ci starebbe pensando Stare in colloquio Con la moglie Perché Il Newcastle Fa un'offerta Molto superiore Rispetto a quello Che si può permettere Il Napoli E' chiaro E' chiaro Che uscirà Perché Quelle squadre Di cui parlavamo Con Antonio Giordano Quelle là Col fascino incredibile Baccellone Ramadete Probabilmente E' complicata Può uscire una squadra Che adesso E' penultima in classifica Ma i tifosi Sono in festa Perché Stanno arrivando Quelli col petrolio E quindi Uscirà la notizia Sicuramente Che punteranno Tutto su Insigne E quindi Dobbiamo destabilizzare Perché Insigne Pungolato Ha detto un'altra volta Non è facile Insomma Ci deve pensare Il mio polcuratore Io sono concentrato Sul campo Insomma Sono quelle famose Frasi Non frasi Dette Non dette Le classiche Che fa bene Insigne A dire così E non credete Perché poi Tranquillizzare i tifosi Come hanno fatto In passato altri I Guain Lo stesso Cavani Insomma Che insomma Un pochino Tranquillizzavano Baciavano Magliette Lascia il tempo Che trova Quindi Fa bene Anche a dire così Ci deve pensare Il mio procuratore Io sono concentrato Sul campo E vabbè A proposito Di procuratori Non è che mi metto A fare un video Per le parole Di Politano Che comunque Domande banalotte Non aggiunge Non toglie Però Potevo fare un video Perché Giuffredi È diventato Procuratore Di Politano Quindi se ne prende Un altro Perché non sia mai Abbia pochi giocatori Del Napoli Giuffredi Assolutamente Deve averli tutti A disposizione E quindi Più questa È una notizia Ma la notizia Che uscirà Ve lo dico subito È che il Newcastle Interessato Insigne Insigne Si parla Di vicepresidente Che avrebbe Parrebbe La non Napoletano Tutte Terza generazione Italiani Iscritto Al Napoli Club Seattle Macello Esagerato È napoletano Vuole comprare Il Napoli Napoletano Amazon Perché poi Esce questa notizia Esce un pochino Perché abbiamo La scritta Amazon Qua è già uscì Questa situazione Qua si rinforza La notizia Proprio nel momento In cui Gli Ceicchi Quelli là Importanti Si comprano Il Newcastle Guardate Fateci caso Ogni volta Che il Napoli Insomma È stato affiancato Così Comunque Non ci arriva mai Niente Offerte concrete Non sono mai arriva Quando questi esistono E ne esistono ancora Di superprincipi Che hanno i soldi Ricchi Sfondati Vanno comunque In Premier League Non si interessano Di una squadra Che comunque Sta andando bene Come il Napoli Si interessano Di una squadra Così e così Che comunque In Inghilterra Può fare Delle cose Può crescere Anche partendo Dalla condizione Di classifica Dove sono penultimi Ma comunque Avranno diritti tv Comunque hanno Altri interessi Sanno come ripulire Questi soldi Insomma ragazzi È un altro calcio Il calcio del popolo La Super League Quello che volete voi È proprio un altro sport Che vivono queste squadre inglesi Poi c'è il PSG E poi ci sono indebitatissime Real Madrid Barcellona Juventus Inter Eccetera eccetera La situazione del Milan È poco chiara Ma queste sono le realtà Europee importanti L'unica che resiste Come esempio Buono e fulgido E virtuoso È il Bayern di Monaco Ma poi per il resto Ci stanno queste anomalie PSG E poi la Spagna E invece In Inghilterra Fanno quello che vogliono Perché funziona meglio Perché lo spettacolo È più avvincente Perché forse si alternano Più squadre A vincerla E a lottare Lottano fino alla fine Perché le piccole squadre Quando affrontano Le grandi squadre Non hanno niente Da che vedere E le affrontano A viso aperto E se perdono 4-0 Non fa niente Ma tutti i tifosi Sono allo stadio Con le magliette addosso A tifare Stadi pieni Noi niente E allora noi dobbiamo Alzare il livello L'Italia deve alzare il livello Non solo l'Italia nazionale Vedi come sono Sono rientrato In un discorso Ce l'ho quasi fatta A fare un video Tutto coerente Sì ma ti sei dimenticato I fischi Eh esatto E quindi L'Italia Deve alzare il livello Come paese Dobbiamo puntare Di più sui giovani Lo so È un rischio Ma dobbiamo puntare Sui giovani Deve quindi Migliorare il gioco Mancini ha tentato Di fare un gioco Di portare l'Italia A fare un gioco E quindi Al di là della vittoria Che è arrivata In maniera anche fortunosa Io lo dissi Insomma Ricordiamoci Sì Le grandi I grandi record 37 Così però Ricordiamoci anche Quali squadre Abbiamo affrontato Non tutte squadre Di primo livello E poi siamo andati avanti Anche con qualche pareggio Ma va bene Il concetto Di far giocare La nazionale Mi è piaciuto Da parte di Mancini Bisognava riavvicinare La gente A questa nazionale E si è fatto Ovviamente con la vittoria Ancora meglio Però bisogna alzare Il livello Proprio della serie A Deve alzarsi Il livello Della serie A Perché altrimenti Siamo troppo indietro E se qua Non possiamo competere Non possiamo competere A livello europeo Con queste squadre Specialmente con le inglesi Che sono di un altro livello Al di là dell'intensità Ma proprio lo spettacolo Che possono vendere E proprio di un altro livello Da New York Valerofluido E tutto Tenete d'occhio Tutte le varie cose belline Instagram Eccetera eccetera Perché ci sono sempre novità E comunque sapete Dici ma come Io ringrazio tutti quelli Non lo so Se questa cosa L'ho detta nel video Che non è uscito O se lo mi sto ripetendo Due volte Questo poi è il problema Di quando si fa Due volte la registrazione Ti sei dimenticato il like Ringrazio tutti quelli Che mi hanno contattato Ma come E martedì non esce il video Quante cose I video dove stanno Eccetera eccetera Voi mi seguite su Instagram E sapete che sono vivo E sono tranquillamente Sto bene E sto lavorando Contemporaneamente Se non ci sono notizioni Che posso fare Accendo la telecamera Salutarci pure è importante Basta Da New York Valerofluido E tutto Ci vediamo alla prossima Presto Non so quando Quando esce qualche notizia Che non mi devo inventare io Ciao Sono Saveria Solida Se arriviamo a 15.000 iscritti Su YouTube È una cosa di cortesia Ma secondo me Dovresti seguirlo anche su Instagram At Valerofluido Fa tutte queste cose Credi Sei iscritto pure a TikTok Nienti più Dai Basta Basta Sei cringe Questa è un bel 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 bel